Studenti, famiglie e visitatori hanno incontrato la polizia postale in piazza Santoronzo a Lecce per una maggiore consapevolezza sulle insidie principali del web, sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche connesse all'educazione stradale e contro gli atti discriminatori. Gli studenti, circa 200 provenienti dalle scuole della provincia di Lecce, alternandosi in gruppo, sono stati poi invitati a salire sul mezzo speciale per incontrare i poliziotti in un dialogo interattivo e costruttivo. Quali sono le segnalazioni più frequenti che rivolgono la polizia postale? I ragazzi sicuramente vengono interessati spesso dal bullismo e da comportamenti devianti che si mettono in atto tra di loro quando c'è un utilizzo inappropriato di quelli che sono i social network o comunque i device messi a disposizione dai genitori. Il grooming, così come altri reati legati a altri comportamenti legati all'adescamento dei minori online, sono tuttora una minaccia. Oltre ai ragazzi, anche i genitori devono prestare attenzione sui ragazzi. È importantissimo che i genitori vigilino, anche attivando dei filtri o dei parental control sul cellulare. I neopatentati alla guida quali sono i comportamenti poco corretti? I neopatentati devo dire che sono sicuramente forse gli utenti della strada più corretti e più tolleranti. Il problema forse è un po' più rivolto agli adulti che magari non seguono perfettamente le regole rispetto ai ragazzi. Dobbiamo essere attenti con la prevenzione e con la repressione affinché questi numeri non aumentino ancora di più. Ma soprattutto quello che noi stiamo puntando è molto sulla prevenzione. E questo è un capitolo di un lungo percorso, di un libro che stiamo scrivendo insieme a tutti i ragazzi della provincia di Lecce.